C'è anche il Museo dei Misteri di Campobasso tra i 700 luoghi speciali selezionati dal FAI come meritevoli di essere conosciuti e valorizzati. I volontari della Fondazione hanno accolto per l'undicesima edizione delle giornate d'autunno i visitatori del museo che custodisce gli ingegni del dizinno e tutto il materiale ad essi legato per spiegare le iniziative del FAI e i vantaggi che si ottengono iscrivendosi. Una vera e propria missione la loro per scoprire e valorizzare il patrimonio di cultura, ambiente, arte e storia del nostro paese. Il FAI è una fondazione senza scopo di lucro, il suo scopo è quello di preservare nel tempo l'ambiente, il patrimonio e anche le tradizioni. Questo perché ci sono state consegnate dalle generazioni passate ed è compito nostro conservarle e consegnarle alle generazioni future. Quanti sono i beni FAI nella Molise? Nel Molise non abbiamo beni FAI purtroppo, non abbiamo nessun bene FAI o perlomeno ne abbiamo un piccolo cimitero che ci è stato donato così ma non lo gestiamo noi di fatto. Purtroppo non abbiamo bene FAI, non abbiamo però neanche i luoghi del cuore finanziati dal FAI perché fino ad ora il Molise si è diviso, ognuno ha votato per il proprio campanile e non siamo mai riusciti fino ad ora ad ottenere nulla. Anche quest'anno il Museo dei Misteri è stato scelto come luogo del cuore dal FAI e si potrà votare online o nei locali di Via Trento fino al 15 dicembre. Sì, infatti è rimasto quasi un mese per poter votare fino al 15 dicembre e attualmente stiamo anche primi in classifica, in questa classifica nazionale provvisoria. Speriamo di arrivare almeno dai primi tre, così è una bella soddisfazione per Campobasso, per il fatto che è stata scelta tutta la regione. All'iniziativa del FAI si è aggiunta, nello stesso luogo quella del comune di Campobasso che ha sposato la protesta delle donne iraniane dopo l'uccisione di Masqa Amini, 22enne picchiata e uccisa perché indossava male il velo. E proprio i suoi capelli, troppo esposti in pubblico secondo il regime iraniano, sono diventati il simbolo della protesta anche in Italia. Donne e uomini stanno donando ciocche dei loro capelli da far recapitare all'ambasciata iraniana a Roma. Davanti al Museo dei Misteri di Campobasso è stata posizionata una teca e un paio di forbici. Chiunque volesse unire la sua voce a quella delle donne iraniane potrà approfittarne, ha spiegato la consigliera 5 Stelle d'Alessandro a nome dell'amministrazione.